Vuole dire che Jasmine Cristallo sia Lorenzo Libero, parliamo anche di televisioni, Vannacci non sta dando il meglio di sé, vogliamo dire questa cosa, cioè in televisione per carità Vannacci prenderà un miliardo di voti, non voglio intromettermi nella campagna elettorale, però fa bene Alessandra Menzani su Libero a notare che gli spettacoli che sta facendo Giuseppe Cruciani che è un genio, Giuseppe Cruciani è assolutamente un genio, devo dire un genio perché ha una spalla d'eccezione che David Parenzo, credo che, non so se il duo si spezzasse, non so se darebbero lo stesso valore, ma al di là di tutte le cose surreali che dicono alla Zanzara, Giuseppe Cruciani è uno che a leggere la recensione dei suoi spettacoli ne darà altri, prima delle elezioni una il 21 maggio a Torino, l'altra il 29 maggio al Teatro Manzoni di Milano, beh queste cose secondo Alessandra Menzani sono più efficaci di quelle di Vannacci, cioè se c'è da lottare contro il senso comune di dire cose in modo irregolare, come fanno alcuni, Lenny Bruce hanno fatto negli anni 50, alcuni grandi performe nel teatro americano, sta risultando più efficace, molto molto più efficace Giuseppe Cruciani di quanto risulti Vannacci, è vero Vannacci portato in televisione, mentre il libro ebbe un successo enorme, così non so come dire, in televisione non ha la stessa efficacia, non è non è lo stesso, non è riconoscibile più, non lo so, dice delle cose estreme, però lo vedi no, anche sui giornali i primi giorni faceva effetto, ha detto che ormai sono tra filetti, ormai sono tra filetti perché ne dice talmente tante che uno dice, vabbè insomma ok, allora il generale Vannacci, prendiamo atto che il generale Vannacci ha detto. Allora ragazzi, leggo e mi stupisco, Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin con crudeltà e premeditazione, rischia l'ergastolo, notizia di oggi. Ora, ragazzi, state attenti a questa cosa, rischia l'ergastolo, rischia l'ergastolo in qualsiasi altro paese del mondo, dell'universo globo, uno che ha, uno che ha, lasciamo perdere queste piccole minuzie, la premeditazione, la crudeltà, sì, benissimo, saranno analizzate, in qualsiasi altro paese del mondo, un signore, un ragazzo, un ragazzo, un assassino, un infame che convoca la sua expidanzata e poi la ammazza, lasciando il cadavere vicino al greto di un fiume, alle sponde di un fiume, poi scappa verso l'Austria, da quello che mi ricordo, verrebbe condannato in una settimana a una pena severissima, cioè l'ergastolo, e non uscirebbe più di galera. In Italia, invece, vedrete, non andrà così, sarà condannato certamente all'ergastolo, dopo vent'anni uscirà, eccetera, eccetera. La cosa che mi stupisce, rischia l'ergastolo, ma porca puttana, ma se ammazzi una così, ma non dovrebbe essere scontato l'ergastolo, non dovrebbe essere scontato, porca puttana. Bisogna fare un processo, un processo, sì, facciamo il processo per la carità di Dio, per il Partito Democratico. Da Roma, dove mi trovo, David Parenzo, buonasera. Io mi associo all'analisi perfetta che ha fatto il direttore Miele quando dice che sostanzialmente tu sei un vannacci che ce l'ha fatta. Giuseppe Cruciani, che è un genio. Esatto, esattamente. Sei un vannacci che ce l'ha fatta. Sei il miglior servizio alle destre, non lo fa vannacci, non lo fa, lo fai tu. Lo fai tu ogni giorno che costruisci e sedimenti un clima nel paese, un clima nel paese, che hai saputo costruire sapientemente con l'aiuto di alcune trasmissioni di Rete 4, creando anche un clima dell'antipolitica. Questa stronzata che hai detto adesso sul processo. Ragazzi, ma è ovvio che ha commesso un delitto terribile, ferato, è evidente. Ci deve essere un processo però. Ecco perché quel titolo dice quello che tu in modo populistico hai citato, come al solito, in modo grossier. Rischia l'ergastolo. Ci deve essere un processo. Ma uno che ha ammazzato la sua fidanzata. Ma che cosa quale? Il titolo del Crux? In quel modo. Il titolo del Crux, del giornale Il Crux, la croce. Sì, te lo dico subito qual è il titolo. Ergastolo domani mattina. Ergastolo domani mattina. Ma neanche la verità fa un titolo simile. Ergastolo domani mattina. Neanche la verità fa un titolo simile. Ergastolo domani mattina. Ergastolo domani mattina. Neanche il giornale Linea, che è stato forse un giornale che ricorderai dell'estrema italiana. Hai da aggiungere qualcosa? Hai da aggiungere qualcosa? Che è un genio. Vabbè, adesso basta però. Adesso io. Va bene, grazie. Ma lo vieni, però basta, regia. Perché l'ha detto una volta sola. Non è che l'ha detto. Esatto. E l'ha detto con la sua straordinaria ironia, peraltro. Vabbè, adesso non le stagioniamo. Magari ci credi. Comunque, il prefetto di Milano. Il prefetto di Milano. Adesso tu dimmi. Ma vi rendete conto che con un meccanismo quasi pavloviano, quando in questa trasmissione viene pronunciato il nome del direttore Tamburini, lo si associa direttamente a questo suono. Io se fossi nell'ottimo direttore, li porterei via fino all'ultimo centesimo. A te, Cruciani, in quanto direttore responsabile, ma anche a Parenzo, in quanto testimone silente e omertoso. Vergogna, vergogna, vergogna. Giuseppe Cruciani, che è un genio. Allora, eravamo con Giordano da Roma. Anche qui non si possono vendere i pezzettini del direttore Mieli e usarlo a proprio vantaggio. Ma quello ha detto, che vantaggio? Allora, siamo con... Poi ha aggiunto un genio anche grazie alla presenza di Parenzo. Ah sì, va bene, d'accordo, vuoi che te lo aggiungo. Cosa che tu hai tagliato? No, ma non l'ho tagliato. Ma ho mandato in onda ieri. Ti ho già connellato. Allora, Giordano da Roma, non capisco perché sei incazzato. Ma il criminale sei andato un coglionissimo. Sì, sei andato. Grazie. 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 Grazie.